La diocesi Lucera Troia comunica alcune iniziative in programma. La messa a Crismale verrà celebrata nella vigilia di Pentecoste, cioè sabato 30 maggio alle ore 9 in Cattedrale a Lucera. Sono invitati i sacerdoti tutti e un fedele per parrocchia con mascherina e guanti. La solennità del corpo e del sangue del Signore non vedrà quest'anno lo svolgersi delle processioni eucaristiche. Le tradizionali processioni saranno opportunamente sostituite nel pomeriggio di giovedì 11 giugno e di domenica 14 giugno con un tempo di adorazione. Venerdì 19 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, i presbiteri e i diaconi sono invitati a Lucera, presso la parrocchia San Francesco Antonio Fasani, dove il padre Maurizio Placentino, ministro provinciale dei Cappuccini, terrà la meditazione a cui seguirà un tempo di adorazione eucaristica e la benedizione finale. Per settembre si pensa a una due giorni guidata dal padre Camaldolese Innocenzo Gargano su questo nostro tempo e tempo di grazia, la mattinata per il clero e la serata per gli operatori pastorali, mentre a ottobre si conferma la settimana biblica che riguarderà gli iscritti giovannei. A Lucera, in questa fase 2, il sindaco Tutolo continua a mantenere un atteggiamento di prudenza, prorogando oltre alla chiusura della villa comunale e dei parco giochi, la sospensione del trasporto pubblico locale, la riduzione dell'orario del centro raccolta rifiuti, anche la chiusura degli uffici comunali fino al 17 maggio, tranne gli uffici di Stato civile, ufficio anagrafe e polizia locale. Gli ingressi agli altri uffici avverranno solo per comprovate necessità, previo appuntamento e saranno contingentati. Invece, il 18 maggio, parrucchieri ed estetisti in Puglia riapriranno e l'annuncio del Presidente Emiliano, che ha assicurato, riapriranno in sicurezza prima del 1 giugno, grazie al lavoro della Regione Puglia con i rappresentanti del settore, il Professor Lopalco, che è responsabile della Task Force per l'emergenza coronavirus in Puglia. Un lavoro fatto mantenendo sempre un dialogo con il Governo, rimarca Emiliano, nel massimo rispetto istituzionale, come tutti gli aspetti di questa emergenza. Nella giornata di lunedì 11 maggio in Puglia sono stati registrati 1.338 test per l'infezione da coronavirus e sono risultati positivi 14 casi, 5 nella provincia di Foggia, dove si è registrato anche un decesso. A Lucera non ci sono stati nuovi contagi. Sono 1.332 i pazienti guariti in Puglia e 2.544 i casi attualmente positivi, di cui 1.116 nella provincia di Foggia. Sono operative da lunedì 11 maggio l'equip di medici delle 5 unità speciali di continuità assistenziale della provincia di Foggia, composte da 35 donne e 16 uomini, di età compresa tra i 26 e i 60 anni. Questi medici avranno il compito di gestire a domicilio i pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. La presa in carico riguarderà le persone in isolamento domiciliare a casa come pure gli ospiti delle strutture sanitarie e residenziali. Le unità speciali hanno sede logistica nei comuni di Foggia, Torre Maggiore, Vico del Gargano, Troia, San Marco e Lamis e saranno operative dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7. Uno strumento operativo di supporto a disposizione delle aziende del territorio per questa fase di riapertura delle diverse attività produttive e commerciali è quello che è stato predisposto dalla Camera di Commercio di Foggia, nell'ambito delle azioni previste per la gestione dell'emergenza Covid-19. Si tratta di una serie di documenti tecnici redatti con lo scopo di fornire alle imprese schemi chiari e immediatamente fruibili sui protocolli da adottare per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica nella fase di ripresa delle attività. I documenti, scaricabili dal sito www.fgcamcom.gov.it, sezione Camera in ascolto, sono specifici per le diverse tipologie di imprese. Gli uffici hanno anche predisposto apposite checklist che l'impresa può utilizzare per effettuare in autonomia un primo controllo, con lo scopo di verificare il rispetto delle misure di contenimento nell'ambito della propria attività. Accanto a questo, la Camera di Commercio di Foggia può fornire alle imprese interessate anche un supporto operativo personalizzato per l'adeguamento alle misure e per la predisposizione di specifici protocolli e procedure aziendali nel rispetto delle prescrizioni delle autorità. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!